Il Milan ha nel mirino l'attaccante del Porto con clausola rescisoria da 100 milioni di euro. Parla il milanista rossonero, benvenuto nel canale News del Milan, approfitta e iscriviti già al canale e lascia il tuo like per aiutare il nostro lavoro e passiamo alle news. Secondo quanto riportato, l'attaccante del Porto Evanilson ha attirato l'attenzione del Milan, che sta valutando una possibile offerta prima della prossima estate. Secondo quanto riportato da Bola in Portogallo, Evanilson non è scomparso dai radar del Milan e i rossoneri stanno infatti cercando di ottenere uno sconto su quella che altrimenti sarebbe una cifra astronomica da pagare per il trasferimento. L'attaccante 23enne ha segnato 8 gol in questa stagione rispetto ai 21 della stagione precedente e ha una clausola rescisoria piuttosto pesante, pari a 100 milioni di sterline. Il Milan non ha mai pagato così tanto per un giocatore, quindi si aspetta di ottenerlo per meno della metà. Tuttavia, il Porto non ha fretta di dire addio a un altro talento dell'attacco dopo che Luis Diaz è passato al Liverpool e il piano attuale è quello di tenerlo almeno fino al giugno 2027, quando scadrà il suo contratto con i Dragoni. Parla l'amico rosso-nero, che ne è dell'interesse del Milan per l'attaccante del Porto? Lasciate un commento per farci sapere cosa ne pensate, e iscrivetevi al nostro canale, fino alle prossime notizie, ciao.